Come ho detto prima, una partita speciale, bellissima per giocare, era importantissimo arrivare con questi tre punti. Tanto, tanto. Lui è un attaccante, loro hanno bisogno del gol e per noi, che lui lo può fare, per noi è importantissimo. Sono diversi mister, diversi formi di giocare, ma adesso stiamo con il mister lavorando e sappiamo che ancora dobbiamo migliorare e lavorare tanto. Sì, sì, è importantissimo quello, però come ho detto prima, è un lavoro di tutta la squadra che cominciano con il primo attaccante. È incredibile. Penso che è una cosa vecchia, che oggi c'è gente che può pensare a fare questo e non si capisce.